Poesia erotica del motociclista. Finalmente oggi, mi dedico alla mia, bellissima amante. Con la quale di avventure pazze, ne abbiamo, fatte tante. Entro nel suo garage, con gli ormoni a mille. Entrambi sappiamo che oggi, faremo faville. Mi avvicino con ardore, la scopro completamente. Giro la chiave e incomincio, a scaldarla, impaziente. Lei incomincia a sussurrare, ma deve ancora scaldarsi e carburare. Delicatamente con la mano destra, tocco l'acceleratore. Per aiutarla, ad andare in calore. Ecco ora è pronta. Controllo il livello, di lubrificazione. Lei mi dice ok, ed entro in azione. Mi sento un dio, ho le sicurezze, e sono pronto anche io. Salgo su di lei, come un tenero amante. Levo la stampella, introduco la marcia, e parto, con vigore, in un istante. Mi avvio piano, per non farla soffrire, cambio piano i rapporti. Ascoltando il suo rumore, continuerei così per ore, a farla impazzire. Il ritmo aumenta, lei è infernale, diventiamo un tutt'uno, niente ci può fermare. La strada si fa sempre più, tortuosa, e nelle curve diventa sempre più sinuosa. Sto sudando, il suo calore mi fa impazzire, ma mi trattengo e non la lascio imbizzarrire. Continuiamo così per ore, finché la sua fuga non mi prosciuga il carburatore. Faccio una sosta per riprender fiato, e darle il carburante, meritato. Ma lei ancora calda, è pronta in un istante. Si riparte più eccitati di prima, ciuccia così tanto da strapparmi la membrana del carburatore, è così su di giri, che svalvolerebbe, il motore. Ora siamo entrambi, esausti, ma soddisfatti, ci abbiamo dato dentro, come matti. Si ritorna verso casa, a riposare, dopo aver avuto mille orgasmi da ricordare. Siamo stanchi, ma felici, la riparcheggio in garage vicino alla bici. Ci salutiamo con uno sguardo profondo, pensando che siamo. La coppia più bella nel mondo. MC Diablo 71. Appunto di punto 2023.